Per il Viera Sport siamo con Simone Burdisso decisivo nel derby tra Dianese e San Bartolomeo. Sei contento Simone? Sì, siamo soddisfatti della prestazione, di come è andata la partita. Nel primo tempo abbiamo attaccato molto di più. Secondo la partita è stata un po' più spigolosa, poi abbiamo trovato il gol e l'abbiamo gestita bene. Siamo contentissimi perché secondo me ce lo meritiamo per tutto quello che facciamo durante la settimana. Per te dieci giorni fa il primo gol in Coppa, oggi il primo gol in campionato, una dedica e ovviamente sei tornato. Sì, sono soddisfatto del mio lavoro perché innanzitutto sto bene fisicamente. Più o meno, sto bene e la dedico al gol, la dedico alla squadra e a tutti i miei compagni che mi stanno sempre accanto. Siamo soddisfatti della prestazione, sono contentissimo per la squadra e andiamo avanti a lavorare. Bisogna andare avanti così per fare bene. Grazie mille. Grazie a voi, ciao. Grazie a voi.